Buon pomeriggio Alcaraz, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. In questi anni alla Juventus si è assistito a un cambio di passo per quanto riguarda l'età della Rosa. Ti chiedo a tal proposito se hai notato in questi primi giorni in bianco-nero un'attenzione particolare da parte della società e del mister nei confronti di voi giovani. Grazie. Sì, in effetti mi sono reso conto che la squadra è composta da molti giocatori, anche molto giovani, poi certo ci sono gli storici, i grandi nomi e tutti appoggiano anche i più giovani. E noi più giovani diciamo che lavoriamo un po' più da dietro e lavorare in una squadra che ha tanti giovani è bellissimo perché abbiamo un bel team tra di noi più giovani ma abbiamo bisogno anche dei grandi nomi che ci appoggino. Vedo senz'altro che il corpo tecnico si occupa e dedica molto tempo al reparto giovanile.